Tutti fuori da qui, subito! Andiamo! Ma perché? Beh, ti uccisi! Cosa stai facendo? Sei impazzito? C'è un altro tornado diretto qui. E tu vorresti che uscissi? No, non capisci. Sì, dovete uscire! Questo è un rifugio antitornado, santo cielo. Non reggerà acquisto. Deve fidarsi di noi, abbiamo già visto cosa può fare. Non correrò a questo rischio. Ho qui centinaia di persone spaventarmi. Avrai centinaia di cadaveri se resterai qui. Signore, è una vita che stodio tempeste, ok? E questa è la più grande che ci sia mai stata. Mi sono spiegata. Spazierà via questo posto in un istante. Esatto. Noi porteremo queste persone in quegli autobus con o senza il tuo aiuto. Andrei, stai vicino, stai vicino! Andiamo! Non ti spieghi l'autobus! Andri! Dobbiamo andare! La star di The Walking Dead, Sarah Wayne Cullis, sarà la moglie di Nicolas Cage nel nuovo thriller Pay the Ghost. Storia di un professore che cerca di ritrovare il figlio scomparso. Script piuttosto particolare perché tratta di un fantasma che rapisce bambini ogni Halloween. Eh, è abbastanza spaventoso, vero? Ci piace. La produzione è prevista per l'inizio del mese prossimo a Toronto. Per oggi è tutto. Al prossimo video con altre novità. Ciao a tutti!